La Cina è vicina, si diceva, ma ora lo è ancora di più dopo l'importante accordo triennale siglato tra la Camera di Commercio di Pesaro Urbino e la Cittich di Pechino, una delle più grandi aziende cinesi di proprietà statale, che controlla 44 società e due banche a Shanghai e un centro commerciale Italian Craft Center che ospita le eccellenze del Made in Italy. Ma soprattutto, oltre a venire loro da noi, siamo noi ad andare da loro, anche se virtualmente, perché si tratta di vendite online. L'accordo prevede che i prodotti delle aziende che aderiranno all'iniziativa, certificati dalla Camera di Commercio come Made in Pesaro, nei settori di moda, arredo, pelletteria e preziosi, saranno inseriti in una piattaforma di e-commerce che partirà a settembre con un portale attivo dal 1 ottobre. Grande soddisfazione per questo accordo è stata espressa dai vertici camerali, visto che in percentuali il mercato cinese è uno dei maggiori in termini di crescita per la nostra provincia. Noi abbiamo seminato per tanto tempo e oggi cominciamo a raccogliere i frutti, ma insieme a noi questi frutti li raccolgono anche altri, perché proprio anche in questi giorni abbiamo visto delle firme di protocollo, di intesa tra vari soggetti, ma soprattutto io credo che sia un risultato importante per le imprese. Fitta l'agenda di questi due giorni per la prima delegazione estera in visita nella nostra provincia in occasione di Expo 2000. Dopo la sigla dell'accordo si è proseguito nella sala della Giunta con una serie di incontri B2B e visite in alcune aziende leader del settore. Possiamo dire che questa è un'occasione, ci profittiamo, perché le imprese italiane hanno la volontà di portare i loro prodotti in mercato cinese. Intanto in Cina abbiamo bisogno di conoscere, di comprare i prodotti italiani, quindi questa è un'occasione, profittiamo.